Un cervo di due metri si aggira ancora nel parco di Villa Reale a Monza. Si raccomanda ai visitatori di fare attenzione, tenere i cani al guinzaglio e non fotografarlo. L'ungolato che si sente minacciato attacca e le sue corna, sarebbe meglio dire palchi, possono raggiungere anche 125 cm di lunghezza e 9 kg di peso. Quindi è meglio evitare di trovarsi a tu per tu con l'animale, ma nel caso si invita a segnalarlo immediatamente a areatecnica chiocciola reggiamonza.it. Nonostante le forze messe in campo è come cercare un ago in un pagliaio, un pagliaio di 700 ettari. Il primo avvistamento risale al 2 novembre nella zona del Boscobello. È apparso di nuovo nelle prime ore del 6 novembre presso Cascina Molini Asciutti in zona Villa Santa. Poi più nulla. Al lavoro una quindicina di persone che ogni giorno prova a prenderlo. La task force è composta da Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, Parco Nazionale dello Stelvio, Polizia Provinciale Monza e Brianza, Parco Regionale della Valle dell'Ambro, Dipartimento Veterinario dell'ATS di Monza e Brianza, Carabinieri del Gruppo Forestale e Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Tra le tecnologie messe in campo una decina di videotrappole, dispositivi per l'osservazione, che si attivano di giorno e di notte automaticamente all'avvicinarsi degli animali, utili per ricostruire gli spostamenti del cervo e un drone di Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza. Fatto più curioso è che l'ungulato si aggirava proprio dove in passato c'era il serraio dei cervi della villa.